da poco si sono concluse le elezioni politiche italiane ma noi conoscitori amanti e patrioti delle due sicilie viene da fare delle considerazioni che ci riguardano che riguardano soltanto noi e allora io ho elaborato un po' i dati del Viminale per arrivare a conclusioni penso interessanti ho cercato di convertire il tutto il dato dell'italia attuale nelle due sicilie che non sono come sappiamo soltanto le regioni mediterranei ma tengono importanti facili territori annessi assurdamente a Lazio con la Latina e Frosinone e Rieti sappiamo che i votanti in Italia sono stati il 64% col 36% di converso di astenuti ma già facendo una proporzione tra le due sicilie vediamo che i votanti sono solo il 57% con grandi differenze anche fra le regioni dove in alcune è stata veramente bassissima la percentuale di chi è andato alle enesime elezioni farsa e col 57% vedremo fuori il 43% crescente come ho detto in certe zone di astensione se poi diamo uno sguardo al partito che ha vinto fratelli d'Italia è una parola che ci fa allibire quando sentiamo parlare di Garibaldi mille fratelli d'Italia e noi ci adontiamo giustamente possono essere pure fratelli questi qua ma non certo dei napoletani e dei siciliani perché non lo erano prima non lo sono stati dopo quando hanno diffuso questo termine offensivo per noi e non lo sono attualmente comunque questo partito ha preso il 26% delle preferenze primo in Italia già rapportando alle due sicilie scendiamo al 24 però 24 sui votanti e noi dobbiamo vedere fratelli d'Italia che incidenza avrebbe qui sui quelli che praticamente hanno votato soltanto da noi e dal 24 con le astensioni che ci sono scendiamo un 14% se poi andiamo a guardare il colpo elettorale la percentuale scende ancora di più dall'8% questo vuol dire che praticamente un solo elettore ogni dozzina dei meridionali è riuscito a scegliere quello che sarà il governo prossimo dell'Italia è una situazione situazione che non interessa in effetti il sud che ha dimostrato ancora una volta di essere un colpo elettorale scettico della stragrande astensione confuso perché ancora una volta c'è un addensamento verso una forza ritenuta capace di cambiare le cose quello delle cinque stelle che già ha tradito le aspettative le quali sono complessivamente praticamente disperate e ancora peggiori quelle che devono venire chi si illude in qualche cambiamento si ricordi che quando ci fu un grandissimo cambiamento fra staterelli come dicono loro italiani e il regno d'Italia il governo che aveva guidato questa falsa unità era quello Cavour e si chiamò quarto non primo d'Italia ma quarto d'Italia nel senso che era quello piemontese cioè voglio dire che adesso cambiamo radicalmente un Presidente di Consiglio dei Ministri questo non cambia perché sembra la stessa cricca antimeridionale che guiderà l'Italia quindi più che mai noi abbiamo bisogno di rivolgersi a queste persone quattro su cinque che praticamente hanno rifiutato il nuovo governo e con tutti i mezzi cercare la via per metterli insieme e salvare la nostra patria di rin anche se per metterli insieme che ogni cosa che ha